Allora, buonasera a tutti. Dodicesimo capitolo della camera da letto. La spinta costruttiva dei primi undici capitoli raggruppati nella sozione romanzo familiare al modo antico aveva assunto l'endecasillabo come il punto ideale da cui partire, perché capace, secondo lo stesso Bertolucci, di funzionare più come pendolo che come metronomo. Con questa espressione il poeta voleva dirci che anche lievi oscillazioni, variazioni sillabiche, sino al capitolo undici, non erano tali da alterare la regolarità del movimento ritmico. Il modello non era il solo ovviamente da cui partire, era stato in principio la Gerusalemme di Tasso, ma complicare le cose negli anni, e non dobbiamo dimenticarci, secondo una lettera che Bertolucci aveva scritto a Vittorio Severini, che il poema viene scritto a partire dal 1955, quindi nel corso di circa 20-25 anni, subentra poi un'attenzione crescente per il respiro ritmico della poesia di Walt Whitman e dei poeti cosiddetti Beat. Nel capitolo dodici, dunque a partire dalla sezione che cominceremo a leggere oggi, che si intitola Città sospirata, e sino al capitolo finale dell'intero poema, il 46, assistiamo a un radicale cambio di prospettiva formale che investe sia il verso sia la sintassi. Non solo la versificazione libera e sempre più lunga occupa, complicando il discorso, uno spazio imponente, ma è l'alternanzi di versi lunghi, che sono la maggioranza, ce ne accorgeremo, e improvvisi, seppure sporadici, versi brevi, a condurre la fisiologia ritmica della poesia. L'ansia, per questo non ho parlato a caso di fisiologia, che il poeta aveva introdotto come tema nel capitolo di Apresci, penetra ora la lingua e riproduce non solo il turbamento psichico dovuto al distacco dagli affetti, ma anche la malattia del cuore, la ritmia di cui realmente, o per nevrosi, sin da ragazzino, per luci, soffriva di questo tipo di malattia. Il letto di lettura, oltre che nella vita, il poeta emiliano la chiamerà poetica dell'extrasistole, in una celebre prosa manifesto pubblicata in una prima parte su Paragone proprio nel 1951. Il primo passaggio suonava così, non è da tutti avere il ritmo del cuore perfetto, la frizione a singhiozzo che creano ravvicinati insistenti battiti del cuore, seguiti da un attimo di silenzio o di vuoto del respiro cardiaco, divengono ora, d'ora in poi, un organismo poetico senza il quale non sussisterebbe alcuna narrazione. Leggerò oggi per noi Vito Portagnuolo, che si è laureato all'Università di Pisa, in poco, lo ringraziamo per questa sua presenza, ha un compito importante, abbiamo la speranza che attraverso la sua voce, questo singhiozzo di cui vi ho cercato di parlare, si senta, si avverta nella lettura, perché è questo tipo di ritmo che dovremo cercare di seguire a partire dalla giornata di oggi. Il contenuto del capitolo non ve lo racconto perché l'argomento me lo spiegate benissimo da sempre. Grazie a voi. Il bambino Attilio abita troppo lontano dalla scuola rurale, in cui ha cercato di sottrarsi con un ingegno sotterfugio. Così viene rinchiuso nel miglior collegio della sua città, Parma. Lontano dalla mamma, dal giardino, dai campi amati suoi, trova il compenso di un amico, un compagno, più di sogni e giochi che di studi. Già precocissimo lettore di libri d'avventure, già poeta riconosciuto, tale nei termini si dimostra, deve dare un nome a un fantastico manufatto, opera dell'ingegnoso amico e simbolo di un'impossibile fuga. Il ricordo dei fuochi di carnevale, da lui quando abitava in campagna con infantile citazione contemplati, non viene compensato dal balletto o mimo in cui lui figura, mascherato da giapponesino sotto gli occhi della mamma spettatrice, nel bel teatro del collegio. In collegio. Nebbia è nebbia per giorni, ma importa poco a questi che hanno accettato una cattività precoce, perché hanno accettato una colpa. Ed essa che li unisce e stringe sul marciapiede, abbandonato dalla domenica pomeriggio, greggio da evitare e compiangere, con una punta di derisione nella lunga occhiata. La prima volta che entrarono ebbero il privilegio di un colloquio, con chi fu delegato ad accoglierli e si mostrò benigno con tutti, elargendo a ognuno una carezza particolare, padre e madre presenti, immobili, chiusi in un nastro di luce, polverosa da vetri senza speranza. Padre e madre giovani, presto animati dall'aria viva di ottobre, da un amore sensuale per il cibo, per il vino dalla chioma di rosa che accende l'ombra della sala interna, cuore riservato del ristorante macina, ireos di carta ai muri sangue che batte alle tempie. Padre e madre giovani dimenticano presto. Ma una mattina, dopo che la notte passò in un cieco, in un silenzioso scontrarsi di morti e di vivi, tutti vivi in un sogno, fu lo strazio prolungato del risveglio, di un difficile e necessario riassetto, poi il farmaco del cielo celeste dentro gli occhi troppo svegli e assorti. Potrà essere dopo una giornata come tante, spesa in applicazione allo studio, fervore nei giochi, prefigurazione esatta della vita futura, non per te che inquieto volgi la mente in un assillo continuo, alla ricerca della gioia impossibile, amore che si appaga di sé, godendo di una gioia altra, in altro. Più tardi, aspetta, essa verrà, ai confini della disperazione, sarà consumato in buona parte il tempo assegnato, eppure teso ancora sulla terra il cotone del cielo, per poco, per quanto sazi la tua fame, e sarà il gioco quieto di un compagno sui bordi assonnanti dell'acqua che va via. A fine ottobre i crepuscoli scendono rapidi, ma qui, dove il canale scorre, sotto le mura alte ed è forse una difesa aggiunta all'altra, un'irrisione subdora il suo salto non impossibile, il suo letto calmo a paragone dell'impervio mattone. Qui la luce è trattenuta più a lungo, imprigionata dal vallo pietosamente per voi due, mansueti reclusi occidentali, mentre l'ombra già ghermisce i faci norosi un minuto prima raggianti nella mischia d'attorno e sotto e sopra il pianeta di cuoio brunito fra cielo e terra. Ed è proprio all'estremo di quest'ora beata che il piccolo sottomarino si dimostra atto alla navigazione. Infine il suo artefice lo vara ricordandosi improvvisamente di te, e da te vuole un nome, ma già la corrente lo porta via, e ormai fuori del carcere, fuori dove una sera mite, d'autunno, col suo passeggio quasi suburbano, si rispecchia tremando in ombre viola. Non seguitelo nella sua corsa, non cercate con la mente di trattenere l'esile sagoma, artificio ligno, disperato, messaggio di un'anima che la vita non vorrà risparmiare, e perciò oggi le ha concesso pietosa questo fiore. Presto, troppo presto lo scafo, troverà la sua solitaria perdizione, la sua fine, e sarà nell'incerto, nell'ignobile scontro di campagna e città, un luogo di scariche e rifiuti, di ruvidi e tardi fiori blu, tenace legato ad un'estate finita in una terra mortale. Voi sciogliete le mani calde dell'amicizia. Confondetevi agli altri dopo un ultimo sguardo al fosso ormai senza più luce. Provedete presto alle seque di un giorno e di un grazioso manufatto nel campo consacrato della memoria. Accettate il compromesso della mensa. Fidate nel rapido, nel giusto avvicinarsi di una lunga notte d'autunno. L'inverno è passato, in un seguito di giorni e notti che soltanto oggi lo sgocciolare delle nevi a un sole quieto e muto rende degni di pietà e di ricordo. S'avvicina. Manca ormai meno di una settimana. Carnevale che segna una svolta nell'anno. E quando è bel tempo, come spesso accade, la sera destinata ai fuochi anticipa improvvisamente la primavera, prolungandosi il chiaro del cielo da pianura a collina, in maniera inquietante, così da rendere insonni i ragazzi ora mucchiati, ora dispersi nella raccolta insensata dei sarmenti. E aggiungi, aggiungi a quest'ora un'ora che i quadranti non segnano. L'ebrezza delle fiamme negli occhi della vampa ai ginocchi e la meraviglia, quando già crolla e si consuma la catasta domestica su cui si voleva finire, per non vederla finire, inaspettato compenso dei lontani, celesti roghi accesi più tardi in collina, là e là e là. Da non poter più posare gli occhi e le membra nello scrutinio esaltante, collettivo, mentre della poiana e del palo familiari, fatti cenere e ombra, più nessuno sicura. Diverranno sostanza della terra, figure in formi cui tu darai forma, nel solitario sole dei mattini a venire. Intanto, per gli eredi degli agrari, le più ricche ambite leve dei collegi e piccoli spiritati, figli unici di quelle femmine randage, pellegrine instancabili lungo il regno d'Italia, si prepara un carnevale diverso, al riparo dell'improvviso mutare e del tempo, evento non impossibile. Accade infatti che l'inverno, prima di andarsene, tenti una rivincita inutile e rovesci piogge, anche neve ultima, molle, destinata a perire subito sulle pire domestiche in cui la legna verde, buttata di frodo da bambini essaltati e sconfitti, brucerà gemendo, annunciatrice sacrificata del bel tempo. Qui, al chiuso del convitto, la festa si prepara tutti i giorni, alla stessa ora cremisi il crepuscolo cittadino, nell'antro peccaminoso del teatrino interno. E qui non può mancare la bianca, la bagliante luce del palcoscenico, la finzione più vera del vero di quelle rose vertiginose dal soffitto ramato e incannucciato. Oh madre irraggiungibile, primavera perpetua. Il rossetto sulle tue guance arde e scotta, al pari del sole, sulle guance nella bella stagione. Tu, socchiudendo gli occhi, fai che si cambi scena. Il giardino orientale diventi parmigiano e le sei della sera, le nove del mattino, e il brusio dei compagni allineati, il grande silenzio di una pianura d'uccelli di farfalle e di api in un pacifico tempo di fioritura. È soltanto così, perdendoti che ti salvi, o troppo presto strappato ai baci della luce dalle porte e finestre, alla contemplazione delle formiche in transito, all'ebbrezza dei mezzogiorni frananti dall'azzurro, alle meditative ascensioni serali, a quei richiami inquieti che la nebbia disperde, ai trasferimenti della famiglia sulla neve fragrante, ai lampi delle averse sopra i muri celesti, alla vista del tuo sangue nella polvere uccidua, alla santa bevanda delle campanule tremule, ai suoi occhi sfuggenti, negli incontri improvvisi. Ora, la tua mimica timida si confonde con le altre, sfrontate, in un assordare di piatti di triangoli, in un frusciare di rasi, in uno strisciare di draghi d'oro, poi che il coro a cui tu appartieni gira su se stesso, allontanandosi e perdendosi, in una prospettiva maligna di loti, nella tua nuca i suoi occhi sfuggenti, delirando gli applausi. Grazie a Vito Portagnuolo, spero che almeno la sua lettura si sia sentita chiara e che un po' del commento introduttivo sia arrivato alle vostre orecchie per poter sentire davvero questo nuovo ritmo in metro che si introduce dentro la lingua dei capitoli a partire dal dicesimo. Solo qualche indicazione testuale per potersi dire un po' meglio, prima non mi sentivate, vediamo se ci sono delle domande, proviamo a riassumere qualcosa, comunque dal punto di vista testuale, attenzione ai falò, perché i falò sono in chiaro riferimento a un quadro che era molto importante per Attilio Pertolucci perché ne scrisse nel 1958 sulla rivista Palatina ed è il quadro di Giulio Carmignani dal titolo I falò nell'ultima sera di carnevale sulla baganza presso Parma. Giulio e Guido Carmignani erano due pittori ottocenteschi e il ricordo è legato alla visione dei fuochi accesi sparpagliati nei campi quando il poeta era bambino e adolescente per festeggiare il carnevale negli immediati dintorni di Parma. Altra allusione al teatrino che era stato dipinto, affrescato dal pittore Gerolamo Magnani nel 1865 è dentro il collegio il celebre convitto Maria Luigia di Parma dove Attilio Pertolucci è un'ottima